nella strategia del gruppo team c'è tra le altre cose anche il superamento della sola proposizione di connettività e questo per catturare un po tutto il valore che c'è all'interno del mondo delle telecomunicazioni per fare questo team utilizza anche le proprie subsidiaries ognuna per il proprio dominio come per esempio nuvol per il cloud telsi per cyber security sparco per connettività internazionale e appunto per quanto riguarda olivetti olivetti è la nostra fabbrica digitale per tutto ciò che è 5g iot cioè l'internet delle cose utilizzando anche tecnologia 5g e pagamenti digitali portando sul mercato soluzioni end to end per digitalizzare processi e servizi di imprese e pubbliche amministrazioni per fare qualche esempio concreto 5g all'interno di impianti produttivi per connettere le macchine dotarle poi di intelligenza artificiale per abilitare per esempio manutenzione predittiva o un altro esempio nel mondo della pubblica amministrazione mettere insieme tutte le informazioni il tesoro di informazioni presenti nelle nostre città dotarle anche questo di intelligenza artificiale per abilitare nuovi paradigmi di rapporto con il cittadino e nuovi servizi questi sono solo due esempi del portafoglio di soluzioni che olivetti può mettere a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni per abilitare la trasformazione digitale